Lo vediamo inquadrato nel nostro led, il volume di Salvatore Di Salvo è un'analisi dal basso di chi il giornalismo lo vive come missione tra la gente e conferma una tesi nota, viviamo un tempo segnato da un prima e un dopo anche per il mondo della comunicazione come leggiamo nella prefazione di padre Francesco Chetta, la comunicazione cristiana nei social E dopo aver letto il libro di Salvatore Di Salvo si ha la sensazione che i social possano essere una formidabile opportunità per essere buoni cristiani e onesti cittadini per dirla con Don Bosco, buongiorno e benvenuto all'autore del libro Salvatore Di Salvo, giornalista e scrittore, grazie per essere con noi Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno a quanti ci seguono Allora, diamoci del tu Salvatore, il tuo collega Santino Franchina ha scritto nell'introduzione Poteva di salvo restare fermo durante la pandemia? Un libro dunque nato durante il lockdown, qual è stato l'input? Il libro è nato appunto durante il lockdown quando ricevetti su WhatsApp una richiesta di Sabrina Fugazza collaboratrice dell'opera Don Orione della provincia di Pavia, un contenente, una preghiera scritta da Don Luca Roveda il quale aveva scritto appunto questa preghiera per richiamare il ricordo dei pastorelli di Fatima per richiamare la loro intercessione affinché potessero tutti gli operatori sanitari di tutto il mondo e di tutti noi potesse fermare la pandemia, quindi questa preghiera che poi è arrivata a Fatima grazie a tutti i colleghi giornalisti ma anche a quanti hanno poi diffuso la preghiera da qui l'input, da quel momento in poi ho fatto un'analisi dei social di tutto il percorso anche della mia vita professionale in particolare appunto nel 2014 il nostro Papa Francesco aveva chiesto, aveva scritto nella giornata mondiale per le comunicazioni sociali che chiedeva a tutti noi di creare una rete digitale di umanità non una rete di fili ma di persone. Da lì appunto ho fatto questa analisi, è attirato anche dal messaggio semplice di Sabrina Fugazza su Instagram il quale naturalmente come tutti noi sappiamo durante la pandemia tutti hanno aperto un profilo Instagram per comunicare, per non rimanere isolati lei invece aveva aperto il profilo Instagram non per comunicare, per mettere a centro l'io ma per comunicare messaggi con contenuti religiosi e dei momenti anche della vita della Chiesa da lì è scattata l'analisi dei 13 post che lei aveva pubblicato su circa 4.000 post e da lì appunto ho cercato di imbastire quella che è la storia ma anche l'utilizzo, il buon utilizzo dei social e assieme anche al contributo di tanti colleghi Edi casualmente oggi festeggiamo San Luigi Orione Paola come diceva anche il collega dunque tutto torna un libro, un lavoro che si è avvalso anche delle voci di numerosi colleghi e professionisti della comunicazione Sì perché questo libro che io non volevo scrivere il solito libro di trattato sui social media sull'utilizzo perché ce ne sono tanti e di persone anche più autorevole di me io volevo appunto centrare il cuore e il messaggio che deve raggiungere l'uomo e ho cercato di coinvolgere 13 colleghi innanzitutto ho coinvolto Sabina Fugazza la quale ha messo a disposizione 13 post che sono poi commentati da due sacerdoti il suo direttore spirituale che è Don Luca Roveda, geografo e Don Arturo Grasso che è il responsabile dell'ufficio stampa della conferenza episcopale siciliana e poi ho chiesto a 13 colleghi di scrivere delle risonanze riguardo a quello che io avevo scritto e parliamo di Don Fortunato di Noto, Alessandra Ferraro, Luigi Ferraiolo, Domenico Interdonato, Salvo La Rosa, Luca Marino, Razio Mezio, Vincenzo Morgante, Francesco Pira, Luciano Regolo e poi ho coinvolto anche l'istituzione dell'ordine il presidente del mio ordine professionale Roberto Gueli il collega Santino Franchina e il padre Francesco Chetta che mi ha onorato della sua prefazione e il presidente dell'UX, il mio carissimo amico Vincenzo Guaragona che ha curato la post-fazione Insomma persone che di comunicazione ne sanno qualcosa potremmo dire Esatto, esatto, esatto In questo percorso Sabrina aveva incontrato un ragazzo speciale, Gabriele Poggi questo ragazzo speciale che è laureato in scienze della comunicazione aveva chiesto a Sabrina di fare qualche disegno Sabrina gli ha proposto questo lavoro lui tramite la mamma lo ha letto e ha fatto tre disegni tre disegni che sintetizzavano quello è il cuore del libro tra cui nel cuore Sabrina aveva sottolineato che il viola è un colore che profuma la metamorfosi appunto della comunicazione che è cristiana nei social e Gabriele aveva disegnato appunto una sintesi della comunicazione cristiana che poi l'editore ha sintetizzato nella copertina utilizzando uno dei tre disegni Sabrina invece ha sottolineato qual è l'aspetto della comunicazione di come la comunicazione si trasforma oggi infatti nel suo intervento sottolinea l'aspetto che il viola è un colore che profuma appunto il titolo che nasce da una profonda conversione professionale, personale e spirituale da qui anche nel suo percorso di vita, della sua vita anche di quello che lei e delle risonanze che lei ha fatto durante la sua vita quindi appunto che il colore, questo colore viola che è appunto l'incantesimo della comunicazione descritto qui è l'arte del comunicatore riguarda la visione, l'annuncio Salvatore perdonami se ti interrompo, scusami volevo farti una domanda molto interessante anche questo però volevo un po' andare al succo della questione volevo chiederti come influencer social media e professionisti possono essere portatori di bene e impegnarsi a creare messaggi positivi tutti debbono fare una inversione di rotta ognuno non deve mettere l'io al centro dei propri messaggi sul messaggio, su una foto ma debbono mettere l'altro cioè utilizzare il proprio profilo per lanciare un messaggio positivo oggi e lo sappiamo tutti i social sono veramente dirompenti ci sono colleghi che utilizzano in modo positivo ma ci sono anche messaggi dirompenti e negativi oggi c'è bisogno di positività nella nostra vita c'è bisogno di mettere insieme, di fare appunto rete una rete digitale però mettendo a centro l'umanità e il senso anche del nostro messaggio che vogliamo consegnare all'altro se utilizziamo in un modo negativo il nostro messaggio il nostro profilo diventa tutto dirompente diremmo allora che dobbiamo diventare artigiani della comunicazione e indossare anche scarpe nuove come scrivi tu all'interno del tuo volume in maniera tale da percorrere questi sentieri davvero difficili della comunicazione in questo periodo storico così complicato sì essere artigiani della comunicazione io mi sono un po' rivisto nel vasaio il vasaio che cosa fa? compone dall'argilla, compone un vaso, fa qualcosa quindi mette insieme dei pezzi ma anche dà una connotazione a quello che realizza noi siamo degli artigiani perché stiamo dentro quella che è la notizia noi siamo gli intermediari tra quello che avviene e quello che raccontiamo ai nostri lettori ai nostri radioascoltatori, ai nostri telespettatori essere artigiani della comunicazione oggi significa invertire la rotta indossare le scarpe, il Papa ci richiama ad indossare, ad consumare la suola delle scarpe noi oggi non capiamo quello che il Papa ci consegna in ogni messaggio ma noi appunto indossando le scarpe diventiamo i nuovi messaggeri, i nuovi apostoli noi giornalisti e comunicatori siamo i nuovi apostoli diamo voce a chi non ha voce portiamo la buona notizia, portiamo quella notizia anche che ci permette di condividere che ci permette di lanciare un messaggio positivo alle persone e come sottolinea anche la Sabrina in un suo intervento, in un suo approfondimento all'interno del libro è il cielo che regge la terra noi questo non lo capiamo noi dobbiamo essere dei veri artigiani utilizzare anche i nuovi strumenti di comunicazione e poi che le nostre spade in un passaggio della nota che ho scritto dico che le nostre spade sono le nostre penne allora utilizziamo bene queste nostre penne utilizziamo per il bene della nostra società perché oggi i giornalisti hanno una grande responsabilità in un mondo che cambia ed essere dei buoni artigiani della comunicazione permettiamo a tutti di costruire un mondo migliore ma anche di consegnare un messaggio positivo alla comunità innanzitutto alla nostra comunità ma anche alla Chiesa perché noi siamo dei giornalisti cattolici in particolare ma tutti sono responsabili e corresponsabili di quello che scrivono ma anche del messaggio che consegnano e sono messaggi importanti Paola, Salvatore assolutamente che questa mattina abbiamo voluto in qualche maniera riassumere e consegnare idealmente anche a tutti i colleghi magari chi ci sta seguendo e che noi facciamo anche come impegno nostro la comunicazione cristiana nei social il libro di Salvatore Di Salvo che ringraziamo di cuore per essere stato con noi ecco vediamo la copertina con la prefazione di padre Francesco Chetta la postfazione di Vincenzo Varagona grazie di cuore per essere stato con noi buona giornata e buon lavoro grazie grazie a tutti voi grazie, buon lavoro e buona prosecuzione ciao grazie mille ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme grazie a tutti